buongiorno a tutti ben ritrovati sul mio canale oggi continueremo la nostra avventura su europa universalis guardando un pezzo guardando uno spezzone della nostra live su twitch con l'occasione approfitto per indicarvi il mio canale in descrizione e se avete voglia di venirci a seguire in diretta e quindi di prendere mano direttamente alle decisioni e a dove andrà la nostra partita potete seguirci in live e con l'occasione vi ricordo di mettere mi piace al video di commentare con i vostri consigli e di condividerlo con i vostri amici quindi detto questo vi lascio all'episodio e a presto e poi vediamo adesso appena poi li abbiamo aperti un po' ragioniamo su che cosa fare oh bene bene finalmente è arrivato il sultano decente e l'erede fa veramente cacare l'erede quindi morirà vabbè così cacare no però morirà ugualmente e invece il nostro finalmente il nostro sultano è molto buono e adesso iniziamo a guadagnare un po' di punti seri riportiamo la stabilità cazzo quanto costa ok tre bisonda la prendiamo boh sì perché no comunque una provincia facciamo così ok e ora spingiamo giù questo ma vabbè uno in più per ora teniamolo nove va ancora bene dai andiamo a prendere questi separatisti qua che sono gli ex della tre bisonda e poi portiamo il più sì però sì ieri a non puoi farsi minchiate bitlis e che è il suo vassallo e gilan che è invece qui ok va bene quindi qua intanto andiamo entriamo anche noi se riusciamo così partecipiamo sì ok e ora andiamo avanti nell'assediare tra coin che deve essere spazzato via il prima possibile anche se ci costa tantissimo faremo un po' questo questo aumento di stabilità e almeno a zero ci serve ok prendiamo 100 punti militari che culo ok vediamo pure qua sono 7000 uomini dovremmo farcela batterli anche se ci sono gli altopiani qui chi è? Siria che si vuole ribellare va bene ok 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 facciamo così prendiamoci un po' di debiti facciamo questa maledetta istituzione che ci costa tantissimo 339 ancora di più tra uno andiamo a fare adottiamo subito l'istituzione e vediamo se possiamo vendere l'istituzione a qualcuno condivisione e conoscenze no attualmente no andiamo a tappo di punti militari e facciamo la tech ok ok allora abbiamo detto che tu oras vali almeno il 150% del nostro territorio 151 quindi almeno il 51 lo devo conquistare o liberare perdiamo i 25 ducati non voglio perdere altra stabilità quindi ti conquisteremo tipo il 60% del territorio e poi prenderemo tutti i soldi questo cos'è un forte di livello 1 ok quindi possiamo andarci anche con questi qua allora tanto chiamiamo questa dieta qui allora castello non lo voglio costruire mercato neanche oltre un'autonomia superiore a 45 e quanto avresti intanto dove sei qui 42 e va bene anche perché le altre due non le possiamo fare perché un mercato è la capitale no non è la capitale no il cazzo di posto è scusa ah qua 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 se costruissimo che cosa abbiamo detto un mercato eh ah è tabriz grazie Giulio scusate che cambiano i nomi e non ci capisco una mazza allora se costruissimo un mercato il potere commerciale qua non è neanche male in effetti eh però vabbè facciamola così facciamo questa e poi la facciamo con calma non la faremo subito la faremo quando ci avranno dato dei soldi prenderemo dei soldi da qualche guerra ma vabbè vabbè ok ah manca tutta questa zona qui manca ovviamente mandare via Gilan questa qua saccheggiarete allora per ora che non serve allora il 78 era quindi non possiamo superare i dieci anni di tregua neanche dieci anni sono già tanti con Karakongyulu perché il tempo stringe vediamo un po' se la facciamo così quindi fin quando è la tregua al 78 è troppo e anche il 77 perché poi non riusciamo a fare la battaglia allora se invece liberiamo delle nazioni vediamo un po' l'Armenia l'Armenia tanto è principalmente zona del vassallo libero questa 41% queste ah sono quattro province ok cambia qualcosa no la tregua è comunque lunga allora o qualcuno gli dichiara guerra oppure probabilmente non ce la facciamo oppure sì ce la facciamo ma infrangiamo la tregua eh infatti ho pensato adesso Giulio o rompiamo la tregua vabbè che è già siamo a zero vabbè vediamo dai facciamo così non farcela non esiste a questo punto romperemo la tregua ce ne faremo una ragione allora a questo punto spingiamo ancora un po' avanti ci prendiamo dei soldi così almeno prendiamo dei soldi e poi romperemo di nuovo la tregua e la riattaccheremo senza gli ottomani perché non verranno perché loro non romperanno la tregua però se gli diamo una bella botta ce la facciamo da soli oppure anche senza rompere la tregua mi fa vedere un po' tu con chi sei alleato con Gilan io a Gilan non ci arrivo e non posso neanche affacciarmi sul mare ma Gilan con chi è alleato? Ardabil e Karakoyulu nooo non volevo dichiarare guerra Ardabil valutiamo anche questa questa via qua perché anche questa è una via che potremmo utilizzare ok eh no non è fanteria, cavalleria che abbiamo cambiato allora e un po' se Gilan si levasse dai coglioni così no Ardabil è in guerra con Shivran aia e la sta... le sta prendendo... no sta vincendo in realtà però si sta facendo occupare le sue province ok che battaglia c'è qua? Ardabil ok noi stiamo lì a guardare mentre stiamo assediando la fortezza ci sono gli altri due che si picchiano di fianco a noi e ce ne sbattiamo allegramente ok Karakoyulu ha duemila uomini molto bene allora sai cosa facciamo? disarmiamo i forti tanti due mila uomini sono qua sono di Gilan e basta ok qua i soldi si li prende tutti l'ottomano? no due terzi si li prende lui eh ti parevo un'epidemia eh ti parevo un'epidemia dai dai che il tempo stringe ok ok allora Gilan dammi i soldi non ti rompo l'alleanza perché mi serve proprio l'alleanza ti dico però che cosa? convertirti non mi serve assolutamente niente questo boh facciamolo per ora e rinuncia a delle rivendicazioni ok poi tu torna pure indietro guadagniamo professionalismo ottimo sono stati qui e facciamo pace con te come la facciamo? allora quanti soldi daresti? 330 non è una brutta idea potrei non prendere questa zona qui comunque il 73 che è già tanto prendere tutti i soldi quanti ne vengono a me? 123 e ci sono coalizioni? no Ardabil, Shivran e Mushash ok potremmo anche farla così oppure prendere 10 e così e fare così in questo modo ho le riparazioni di guerra che mi convengono ok facciamola così e poi dichiariamo un'altra guerra in cui ci andiamo a prendere tutto il resto però attenzione aspetta eh perché così noi abbiamo 73 e tu tutto quanto sei 151 allora però non possiamo fare dobbiamo per forza rompere la tregua perché se lo faccio diversamente entra come non cobelligerante e quindi tutto costa il doppio e lui avendo 151 se noi prendiamo il 73 gli rimane ancora l'80 per cento che è troppo il doppio è 160 se prendessimo tutto riprendiamo il 98 rimane comunque più del 50 per cento no? è comunque impossibile prenderlo diciamo così intanto ridai tutte le province nazionali all'Iraq e poi dagli anche queste zone questa qua che è proprio in mezzo prendiamo le riparazioni di guerra e un po' di soldi ok va bene così inviamo ok ora abbiamo un Iraq bello grosso bello cicciotto tu torna pure indietro ah questa è zona Karakoglu non è mia tu torna pure qua rimborsiamo il prestito Karakoglu non è più un rivale e non me ne frega assolutamente niente nazionalizziamo queste due province e ora Karakoglu quanto quanto vali il 72 per cento è per forza e ti devo attaccare io però cioè queste sei province sono il 70 no sette province sono il 60 72 per cento eh sì 8 9 8 19 questa perché è costosa questa ok va bene abbiamo dieci anni facciamo così ne aspettiamo un paio e vediamo se per caso Ajam che nel mentre è saleato con gli ottomani maledetto infame bravo bravo Ajam bravo dichiara guerra a Karakoglu bravo perché è vero che io non ti voglio ingrossato ma non voglio neanche perdere 3 di stabilità vediamo come va sta guerra se Ajam distrugge Karakoglu oppure semplicemente anche solo gli pappa tutto questo forse ce la facciamo senza dover infrangere la tregua ma per ora perdiamo soldini no non è vero ora li guadagniamo Ottomani ha dichiarato guerra a Bisanzio bene alleluia la Francia ha dichiarato una crociata contro gli ottomani Ajam vieni 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 tranquillo buonanotte allora questi sono di là quindi per ora facciamoli allenare un po' allora vediamo un po' ah volevamo andare a vedere se potevamo ecco qua condividere le conoscenze con la Siria vabbè condividiamolo ugualmente con la Siria allora adesso qua possiamo fare la nostra rivendicazione questo è già molto buono questa è tutta già ah shivran shivran ok sei in due guerre caracoglio probabilmente non serve perché se lo pappano tutto loro a me deve andare anch'io recupero quello che giochi nei prossimi giorni va benissimo buonanotte Giulio tanto anch'io non penso che sarà ancora tanto semplicemente vorrei capire un attimino se devo dichiarare guerra oppure no ma probabilmente no perché è in due guerre quindi penso che se lo papperanno tutto oppure se non se lo pappano tutto l'idea è di dichiarare guerra da Ardabil ah quanto abbiamo di tregua con Gillan perché sennò non possiamo con Gillan la tregua però arriva all'82 ok come l'ho detto in caso dobbiamo rompere la tregua e basta vedremo grazie comunque per la compagnia buonanotte qua perdiamo ancora sempre perdiamo due e mezzo perché abbiamo tre di interessi che sono tantissimi uno e mezzo di fortezze e dovremo riuscire a dargli un po' una botta a sistemarli un po' questi debiti perché sono veramente tanti sono dieci o più di dieci sono undici novecento ducati allora otto mani non verrebbero con me perché sono alleati con loro ma non verrebbero neanche con loro ok però comunque noi siamo troppo scarsi per attaccare a Jam per ora anche se in guerra con Caracoglio ma Caracoglio lo fa schifo ah i Timuridi ci darebbero un'alleanza perché no? intanto mollami un po' di soldi che schifo non mi fanno e iniziamo magari a ripagarci un paio di debitucci rinnoviamo il matrimonio reale con gli ottomani e poi vediamo un attimino come siamo messi ma anche noi a breve stacchiamo volevo giusto capire come finiva questa guerra qua ecco come finisce con la liberazione dell'Armenia allora Gilan ah ok no vabbè ok ok eccola qua Caracoglio ha accettato la pagina con Shirvan Caracoglio lo cede Ganja e Shirvan è ok Mushasha le sue province legittime due ok e basta ma ce n'è almeno ancora una no perché ha liberato l'Armenia ah eccola qua Caracoglio libera a basso ora Armenia in qualità di stato sovrano ok quindi qua Caracoglio non c'è più porca troppo è rimasto un buono provincia ed è in guerra con Ajam che non se lo potrà prendere quindi dovremo rompere un'alleanza rompere una tregua solo per una provincia quando finisce sta tregua con noi è nell'83 troppo tardi otto mani ah vai contro Genova sì va bene dai non c'è problema diciamo centomila volte di più Genova Cipro Lucca vediamo un po' riusciamo a portarli qui ma sono già occupati Genova e Cipro vabbè allora vediamo qua Ajam finirà questa guerra perché intanto ti hanno spazzato via tutto Ajam solo con lui non potrai prenderla in nessun modo rimborsiamo un prestito rimborsiamo un prestito ok salvo che Ardaville non dichiari guerra ma non la vuole è l'unica provincia che non vuole magari intanto andiamo a mandare leviamo questo e lo mandiamo nei paesi eltraggiati e facciamo la nostra bella tech ok allora Karakonjulu ha dichiarato bancarotta e non ha dato nessuna provincia ne ha due non una e beh molto semplicemente andremo a rompere la nostra tregua per forza per prenderci queste due inevitabile inevitabile perché per ora non hai alleati potremmo aspettare qualche anno per vedere se ti fai qualche alleato da da attaccare ma non penso abbiamo qua dei ribelli che vogliono uscire ok dove Divrigi beh c'è già usciranno già chi se ne frega disarmiamo i forti e andiamo a Divrigi a prendere questi i ribelli che stanno per uscire richiamiamo pure il diplomatico della Siria 10 di prestigio perdiamo per avere modificatori di riserve nazionali e prestigio ancora in meno oppure livello di prestigio per punti militari dottori diplomatiche per efficienza commerciale ci prendiamo le riserve allora a sto punto prendiamo le riserve qui per ora niente alleanze Caracoglu fate un qualche alleanza che ne so con l'Armenia con la Georgia la Georgia la Georgia la Georgia la Georgia potrebbe andare ancora bene a questo punto potrei allearmi lui per andare contro la Jamma poi andremo anche contro di lui però quantomeno ce lo possiamo portare dietro sicuramente ok va bene ti porti in guerra contro i tuoi vassalli sei in inferiorità no sei in superiorità numerica facciamo i nostri base staterelli ok ilan qua non esce più ah no sono 2.80 adesso ok ugualmente però non sono interessato adesso a tenere i forti perché tanto la guerra non arriverà fin da me e tu ancora non hai fatto alleati va bene teniamoci l'impatto dell'espasione aggressiva che ci stiamo già espandendo abbastanza entro il 78 ok intanto iniziamo a far fuori un po' di vassallini bravo se andassimo così in guerra siamo 6.000 in più non è una brutta idea anche perché adesso tu adesso in guerra si ok va bene con me però poi inizierai anche a ragionare su altre espansioni quindi c'è i caraman qua e poi c'è i mammelucchi ok allora 90 qui va bene ci sono già pronto 6 e 6 chissà dove uscirà sicuramente non dove l'ho messo infatti mentre l'altro è qua giù ok va bene abbiamo ancora un diplomatico ma lo teniamo lì passati qui e nel mentre tu sempre niente alleanze se ti vassalizzassi ovviamente non verresti aspettiamo ancora un anno poi tra un anno dichiariamo guerra a Karakoyulu e chi si è visto si è visto chi se ne frega ci prendiamo un meno 3 di stabilità e basta anzi meno 5 ma vabbè tanto non possiamo andare a meno 5 e andiamo a meno 3 ok così almeno prendiamo il nostro achievement e poi ce ne andiamo a dormire tanto gli vassalli come vanno ok l'Iraq guadagna addirittura anche un ducato la Polonia ci ha messo rivali si è già così forti l'Iraq ha ancora delle terre a conquistare solo Bitliz ok potremmo andarla a prendere poi Bitliza degli alleati passora ok che è piccolissima quindi potremmo anche poi attaccare non entra neanche non ha uomini abbia la tregua come l'hanno detto fin quando ce l'abbiamo fino all'83 ok e qua invece potremmo anche farlo che hanno 2000 uomini perché no con una facile preda quindi aspettiamo anzi dichiariamo direttamente ci mandiamo l'alleato quindi l'Iraq quanti uomini ha l'Iraq e te? 7000 dove sono però? ok e qui invece magari vieni vieni te Siria qua vorrei che ti ribellassi un po' te ma fa lo stesso e qui dove spunta? non ce l'aveva prima e ora non ce l'avrà di nuovo ottimo andiamo a farla velocissima questa guerra così poi possiamo dichiarare a questi maledetti del caracoglio che continuano a non allearsi nessuno ok qui va bene c'è il forte ma i uomini dell'Iraq dove sono finiti? sono 7000 ma dove? sarà in qualche guerra sparsa qua da qualche parte ok proviamo a mettere a 4 ottomani non è una grande potenza ma veramente? cosa state dicendo? allora corso costo consigliere meno 15% che va anche bene invece che un botto di malus va benissimo ok spingiamo ancora un po' velocemente dai che è 72 e qua intanto buiaiai qua come prende botta il timoride ok bene bene quindi andiamo su qui e poi si dichiara a lui finalmente e continua a non aver alleati qui Siria potresti anche andarci o no o sei ah sì come l'ho detto potresti leale la Siria quindi non ci andrà va bene aspetta di pace la faremo solo dopo e adesso ci prenderemo il nostro bel meno 5 alla stabilità e vabbè eh che vi devo dire facilmente va fatto e quindi in ogni caso ce lo prenderemo ok sì hm si muriere con c'è di dipendenza Afghanistan Corazan Tarasoxiana e Sistan quindi rimane senza completamente senza passaggi ok hm ok vabbè non è un grosso problema vai intanto prendiamoci un po' di tech che fanno sempre comodo e passiamo a raspingere un po' di qua 5 anni eh 5 anni sono un po' tanti ma va bene 0,4 non è un costo eccessivo a questa 3 3 mi servono 9000 uomini quindi ne spostiamo 1000 e basta misticismo ok ora gli ottomani sono di nuovo una grande potenza e sono quarti ok e prendiamo del prestigio invece che 20 ducati vediamo un po' se ci esce no però ci uscisse un leader con un po' di assedio ma niente 73 abbiamo 5 anni 4 anni per portare avanti questo assedio ce la faremo si spera intanto la Siria a noi l'Iraq l'Iraq è tornato indietro ha deciso finalmente di assediare Bitlis così almeno possiamo chiudere anche questa guerra qua sotto prenderci Bitlis dall'Iraq e poi magari annettarcelo e dargli anche queste due province qua visto che ci siamo qui non c'è niente da liberare immagino no e allora sta nel malvagio potrei liberarlo da qui abbiamo un po' di Reconquest allora no questa costa tantissimo non la voglio fare per ora bisognerebbe arrivare qui così almeno faccio subito la dottrina quanto è 999 no 1023 ok e questo meno 3 poi cercheremo di tirarlo di nuovo su piano piano perché ora ci costa un fracco di punti che non abbiamo cioè abbiamo ma ci servono ok allora prendiamoci queste due province che ci sono costate carissime e poi qua giusto per fare un po' di prestigio e poi direi che con questa pace e con la achievement che dovrebbe essere ottenuto salvo che abbia dimenticato qualcosa no eccolo qua perfetto quindi abbiamo quindi abbiamo preso la britz è prima del 78 e caracoglu non esiste ok quindi col nostro primo achievement l'ascesa della piecora bianca direi che chiudiamo qua la partita di oggi comunque siamo partiti da piccolo statarello qua abbiamo conquistato un po' di roba l'iraq è nostro la siria è nostra e poi ci prepareremo settimana prossima ad attaccare direi i mammelucchi e gli altri paesi di qua quasi quasi anche la jam magari vedremo vedremo come sta ah sì il timuride viene vedremo come sta il timuride già il fatto che gli ottomani non vengano è tanta roba quindi probabilmente faremo prima questa bene direi che andiamo a picchiare questi e poi eccolo qua rise of the white ship grazie per averci seguito tutta la sera e anche fino fino ad ora grazie per chi ci segue anche su youtube e come al solito vediamo alla prossima qui magari dobbiamo andare un po' di già sempre sul misticismo che secondo me è il migliore adesso come siamo 20 di legalismo addirittura sono riusciti anche a prendere la a vincere l'assedio vabbè poco male poco male tanto abbiamo 30.000 di riserve militari va benissimo dai grazie buonanotte e a presto ciao ciao